Allora ragazzi, cominciamo con il nostro vlog del Foodspring. Ovviamente oggi è mercoledì, cioè non è ancora cominciato tutto il nostro hambre d'am di Rimini Wellness. Il problema, sai qual è? È che sono cimorita ragazzi! Ho la febbre, ho non lo so che cosa qua nelle sinusite, nel polmone e quant'altro. Però dobbiamo combattere perché io non posso non essere in Rimini Wellness. Allora, ovviamente mi sostengo già con una collezione pazzesca, tante proteine, sostenere i miei muscoli. Già preso magnesio e potassio, questo è molto importante, sali minerali. Ma facciamo di tutto per pensare alle grandi queste Rimini. Partendo con le mie proteine vegane, ok? Vegane, buonissime, di Foodspring. Preparando Rimini ragazzi, ci siedi, guardate, là in fondo il nostro palco, qua è il negozio. Abbiamo uno gigantesco, siete pronti? Rimini, fra due giorni ti aspetto. Questa è prima della Kermesse, eccoci qua, queste sono facce sorridente, tutto pieno di energia, senza crampi, senza stanchezza. Domani comincia il Kermesse, sì, Rimini Wellness e speriamo che voi ci state anche bene. Stiamo preparando ragazzi, la prima lezione sta per partire Gilles e Davide insieme. Questo è il nostro visuale, che ne dite? Bello? Sta per partire Rimini Wellness. Ragazzi, siete pronti? Sì? 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 Ragazzi, terzo giorno di Rimini è quando siamo qua, saltiamo e scappiamo da un palco o dall'altro, siamo terzo giorno, come potete vedere, ti consumi a Rimini è come fare quattro maratoni di fila, così io tra una lezione e l'altra posso usare questi, recovery amminos, aminoacidi di recupero che ti danno un sprint energetico, un sprint proteico e ti aiuta a tenerti in forza perché qui è la sopravvivenza, non neanche la performance, è proprio sopravvivere e non svenire sui palchi. Continuate a seguirmi perché Rimini è mica finito, oggi è sabato. Sto provando di rimettere questa nella bottiglia, le mie recovery amminos perché ho già fatto tre lezioni, sono un po' stanca, adesso devo però inquadrarlo, metterlo nella bottiglia è un po' più difficile di quella che si dice, ma ce lo farò. Grazie a tutti!